Sotto no? Eh, su, guarda pure qui, si sta appena Ecco, lo stanno prendendo, David Porca droga Ma perché? Ma guarda tu, ci siamo proprio un croce Mamma, ma perché? Grazie C'è bisogno di una pulizia di massa, anche in Italia Via per via, quartiere per quartiere, piazza per piazza Con le maniere forti, se serve Perché sono interi pezzi di città, interi pezzi d'Italia che sono fuori controllo Grazie 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 a tutti.